e ciao amici benvenuti tutti in questo nuovo video io sono andrea lanciotti il vostro tecnico digitale e oggi sono qui per fare un video un po corto un po delicato ma soprattutto per augurarvi una buona pasqua sì perché volevo soprattutto ringraziare per i miei 800 e fast iscritti tutti voi grazie che mi seguite ogni volta sul mio video e vedo che mi state vedendo sempre molto di più quindi solo un mio ringraziamento verso di voi soprattutto vi voglio augurare una buona pasqua buone vacanze in questi giorni faremo un po di vacanze anche noi quindi ho bloccato un attimo con i video anche perché sono un po impegnato in alcune cose e ricominceremo dopo le vacanze di pasqua ricominceremo come vi farò vedere come installare il dispositivo che vi ho mostrato la settimana scorsa cioè il nettamo vi faccio vedere come siccome me l'avete già chiesto allora vi farò vedere come si monta è molto semplice quindi sarà anche quello un video molto breve però me l'avete chiesto in tanti allora facciamo così vi faccio vedere come l'ho montato e com'è il funzionamento perché ho visto che il video è piaciuto a molti e continuiamo quindi era solo questo era un augurio a tutti quindi ciao a tutti da andrea lanciotti il vostro tecnico digitale un saluto a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale lascia un like scrive un messaggio e ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti e buona pasqua ancora ciao